ok e quindi possiamo possiamo iniziare ok incomincio a rispondere a un paio di domande appunto che sono sulla chat che leggo e a cui rispondo quindi un dubbio sulla await se dentro una funzione async abbiamo più linee con await ognuno di queste aspetterà che la precedente sarà terminata ma nella funzione async ci sono anche linee normali quindi codice normale come ad esempio console log qualcosa eccetera queste verranno eseguite subito non appena il thread è libero non mi è ben chiaro cosa intende per thread libero forse nel senso che nel momento in cui il codice riprende se queste funzioni sono dopo vengono eseguite dopo se erano prima vengono chiaramente eseguite già prima ho provato alcuni casi ma per sicurezza ve lo conferma quindi noi scriviamo del codice poi c'è una await lì il codice si blocca fino a quando ciò che è l'espressione della await non viene risolto in qualche maniera quindi sostanzialmente quella della await l'espressione che mettiamo lì se è un valore fisso a parte che non ha senso usarla await ma viene immediatamente risolta ma se non è un valore fisso è una promise nel momento in cui viene risolta si va avanti però ciò che c'è dopo viene eseguito una volta che è risolto ciò che c'è nell'espressione della await perché altrimenti tutto il meccanismo non riuscirebbe più a funzionare è un po' come se l'avessimo scritto nel den di quella promise che corrisponde all'espressione della await facciamo poi una prova negli esempi che vediamo questa mattina per vedere se è quel tipo di codice a cui si sta riferendo il vostro collega quindi se ad esempio la await sono set timeout e dopo la await c'è console.log se la await sono set timeout sì, ok dopo la await c'è console.log sì, perché set timeout set timeout le ritorna un intero quindi se lei fa una await di un set timeout o comunque di se lei fa dipende da come ha scritto l'espressione della await cioè se una funzione che ritorna una promise in cui fa resolve e per il resolve cioè il resolve ogni chiamato dentro la set timeout dovrebbe bloccarsi se invece lei mi fa await set timeout o cose di questo tipo quello va avanti perché è un valore fisso e viene immediatamente risolto perché la set timeout ci ritorna un identificativo poi proviamo a fare quello che ci dice però mi sa che lo dobbiamo provare direttamente nel codice dunque nella scorsa lezione abbiamo visto una funzione dichiarata async restituire una promise esplicita non abbiamo capito perché tale funzione è stata dichiarata async in effetti non c'è bisogno si può in questo caso la async è superfluo perché una funzione che ritorna una promise è automaticamente una funzione async quindi non c'è bisogno giusta osservazione quindi diciamo non dico che di troppo nel senso che è una cosa che è già implicita nel codice non è sbagliato scriverlo in più perché non ha semplicemente alcun effetto non cambia niente perché è già async ok quindi però grazie per avercelo fatto notare e in effetti è vero c'era uno dei colleghi che appunto stava preparando una soluzione io gli ho detto esattamente quella ma perché hai fatto è scritto async davanti a questo che ritorna la promise solo che l'ho vista sulla soluzione di cui parlavano l'altro giorno e non evidentemente su quell'esempio di cui abbiamo parlato l'altra volta ok direi quindi che possiamo iniziare nella prima ora e mezza come vi ho già anticipato su Slack faremo un po' di esercizi quindi avete visto che c'è del nuovo materiale ci sono proprio due slide appunto che sono due esercizi con cui possiamo fare un po' di pratica con quello che abbiamo visto finora e poi nella seconda parte della mattinata parliamo di architettura web abbastanza brevemente perché poi tanto approfonderemo i vari aspetti più nel dettaglio dunque nel primo esercizio i miei voti col sistema Stati Uniti US che sostanzialmente vuol dire converti i voti in ABCD dove la regola è questa se sia esattamente questo no non ci interessa ma noi l'abbiamo messa giù più che altro per fare un po' di esercizio più alto di 27A tra 24 e 26B eccetera eccetera proviamo a scrivere qualche riga di codice JavaScript usando l'approccio funzionale per gestire appunto una lista di oggetti che contengono codice di corso nome crediti e voto partendo dall'esercizio dell'altra volta terzo esercizio che abbiamo solo intravisto e che ieri vi ho messo a disposizione in questo repository che ho creato analogamente a come hanno fatto i colleghi AV1 AL quindi questo è il nostro corso AL primo corso in italiano WIC02 e trovate dunque dovrebbe essere transcript node B se non sbaglio sì che era la versione tra l'altro la versione completa di quello che avevamo intravisto l'altra volta avevamo solo intravisto ed era quel codice che creava appunto un oggetto usando una funzione costruttore e poi ci lavorava un po' sopra appunto con dei metodi funzionali oppure con dei metodi che fondamentalmente facciano delle operazioni classiche non come questa l'average che possiamo fare con reduce come proviamo giusto così una volta a fare stamattina ma che possono tranquillamente anche essere implementati in maniera più tradizionale e quindi prendiamo partiamo da una bozza di un qualcosa di questo tipo e facciamo quello che ci viene chiesto nell'esercizio quindi fare questa conversione proviamo a farla appunto usando questo approccio di tipo funzionale quindi proprio entriamo nell'ambiente di sviluppo il nostro visual studio code dunque questo dovrebbe essere appunto quell'esercizio anzi versione addirittura più ridotta però diciamo che possiamo tranquillamente partire da un qualcosa di questo tipo fatemi salvarlo in un altro file così tanto facciamo pratica con l'ambiente di sviluppo quindi diciamo score us score us ok ok quindi abbiamo solito use strict day.js perché abbiamo bisogno delle date intanto facciamo pratica anche un po' con questo day.js qui abbiamo la nostra funzione costruttore dunque in realtà c'è fin troppo quindi codice e nome crediti quindi cfu e score il resto potremmo quasi buttarlo via lasciamolo lì per ora non è che ci dà fastidio funzione costruttore la scriviamo con la lettera maiuscola più che altro per convenzione in realtà funziona lo stesso anche se non avesse la maiuscola ma è una convenzione siccome javascript è già abbastanza come dire complicato di suo se cerchiamo di seguire le convenzioni magari riusciamo anche a capire un po' medio come funziona il codice stesso quindi ci ricordiamo che se la funziona la lettera maiuscola dovremmo poterla invocare col new e questa poi a disposizione le sue proprietà dentro la funzione accessibili col dis e al di fuori come normali proprietà poi a un certo punto più avanti nel corso parleremo di classi prototipi eccetera però sarà una cosa molto semplice più semplice dell'anno scorso perché appunto poi diciamo javascript non ha questo meccanismo esplicito di gestione delle classi come template di oggetti e quindi poi appunto raramente vengono usate nel codice dal programmatore magari qualcuno si scrive alla libreria fa qualcosa per diciamo che deve essere ben strutturato utilizzabile eccetera da altri sì però diciamo al nostro livello abbiamo visto anche con l'esperienza dell'anno scorso che non c'è tutta questa necessità e poi dunque quindi questo è l'oggetto che fondamentalmente c'è la funzione che ci costruisce un oggetto che fondamentalmente contiene tutto quello di cui abbiamo necessità quindi i vari campi le varie proprietà e e poi avevamo credo il testo ci dicesse di vabbè di modificare l'altro che ci diceva di creare una funzione costruttura exam list con una serie di metodi questi metodi che ci consentivano di operare su sui nostri oggetti e quindi lo facevamo con un approccio di tipo appunto orientato agli oggetti anche se appunto in javascript questa cosa ha i suoi limiti e le sue peculiarità però diciamo che in questo exam list abbiamo la lista che alla fine è un array un array che sarà un array di riferimenti ad oggetti e poi abbiamo dei metodi definiti nel momento in cui creiamo la funzione costruttore add find after eccetera possono essere anche di più e e semplicemente implementano la logica che desideravamo quindi in questa funzione cioè al di fuori di questa funzione a un certo punto creiamo i nostri oggetti quindi VA1 web application 1 system device programming eccetera new exam list add add che semplicemente la add fa this list push e quindi la mette nella lista e vogliamo andare a appunto fare qualcosa per esempio una conversione di di come si dice di di formato diciamo così del del voto dello score quindi diciamo che posso a questo punto ho fatto questo oggetto aggiuntivo devo decidere se voglio mettere il metodo dentro o fuori posso metterlo fuori nel senso che la proprietà list come le varie funzioni sono anche accessibili da fuori in javascript se non abbiamo fatto qualche trucco per esempio con le closure per fare in modo che non sia più accessibile tutti i metodi quindi le proprietà degli oggetti in javascript sono pubblici quindi accessibili da chiunque diciamo che per mantenere un po' di ordine direi che possiamo possiamo scriverlo qui internamente e farci per prima cosa io direi una funzione che appunto faccia una diciamo che ci restituisce facciamo restituire un array this convertiamo diciamo convert sto improvvisando in questa maniera una specie di traccia che ci siamo fatti però voglio dire this convert us scrivo con questo sistema cosiddetto camel case nel senso che non metto le underscore ma metto le maiuscole a ogni parola quindi non con l'underscore queste sono di nuovo convenzioni tipiche rendono il codice un po' più leggibile quindi questa è una funzione che quindi opererà sul nostro array che è this list e diciamo che voglio fare un'operazione di conversione e farmi ritornare un nuovo array qual è la funzione nell'ottica di programmazione funzionale sugli array che ci ritorna un nuovo array e che ci consente di fare un'operazione su ogni elemento dunque abbiamo la for each map esatto qualcuno ci scrive map la for each lavora applicando un chiamando una funzione su ogni elemento dell'array ma non ci ritorna un nuovo array semplicemente è come se implementasse un ciclo per noi la map invece è proprio quella che appunto ci interessa alla map dobbiamo ricordate passare questa la callback che fa l'operazione adesso la scriviamo consentitemi però allora prima di fare return this list map perché map appunto ci ritorna l'array noi facciamo che lo ritorniamo fuori stiamo un po' pasticciando su questo esempio iniziale potevamo anche tenerlo dentro fare un this list us uguale però così tiriamolo fuori così facciamo facciamo un po' di esercizi dunque punto e virgola va bene la callback quindi nella callback dobbiamo avere una funzione che prende come parametro diciamo il nostro elemento dell'array scusa posso chiudere il nostro elemento dell'array e poi perché mi succede else e poi fa delle operazioni adesso metto la freccia uguale maggiore la freccia non è uguale giusto perfetto quindi scrivo col arrow function perché di solito è la cosa più facile anziché scrivere function x eccetera ecco come faccio a fare la conversione io vorrei che in quel oggetto io ho un riferimento ad un oggetto che ha tutte queste proprietà prendessi codice e lo trasformassi in qualcos'altro no scusate non codice score codice è la stringa del codice score quindi diciamo che io vorrei che prendo l score e ne faccio qualcosa secondo quella regola di cui parlavamo prima più di 27 a altrimenti b altrimenti c eccetera è il vote sì che abbiamo chiamato score uguale alla trasformazione quindi allora io farei un this dunque l'avevamo chiamata una chiamata remap che non ha nulla a che fare con la mappa col map remap chiamiamolo pure vote ma forse score anzi scusate this è una proprietà quindi score precia diciamo che a fronte di uno score che è un numero if score maggiore uguale 27 diciamo facciamo return a che è una stringa fatemi fare un po' di cut and paste altrimenti passiamo il tempo a scrivere il codice tanto poi questo codice ve lo do e ve lo do anche più in fretta diciamo di quanto è successo nel passato con negli scorsi giorni con l'altro codice adesso che abbiamo il nostro repository abbiamo un po' concordato come gestire queste cose quindi finita la lezione come metto online il come si dice la registrazione e metto online anche questo codice quindi questa è una normalissima funzione if ritorna a b c d e quindi diciamo che ok score quindi this remap ok se io faccio così infatti che devo poi chiaramente scrivere return se ho messo le graffe cosa ottengo? ottengo un array di soli scores quindi possiamo già provare a vedere se funziona anzi io lo farei e vi consiglio di farlo spesso perché altrimenti finisce che scriviamo tanto codice e non e poi quando abbiamo dei bug non non proviamo correttamente se il codice funziona ecco adesso vediamo se riusciamo a eseguire quello che desideriamo noi è stato eseguito quello che desideriamo noi no vedete che è finito su libretto fate sempre attenzione che il Visual Studio Code funziona in questa maniera nel nel package json che alla fine è un file particolare di node non è solo di Visual Studio Code che descrive i vari pacchetti che ci servono per far funzionare la nostra applicazione per esempio in questo caso il dayjs c'è anche un main che ci dice qual è il main del nostro codice poi un nome ma il nome non ci interessa e se non diciamo nulla il Visual Studio Code ci esegue quello che c'è scritto nel main quindi se adesso facciamo così andiamo ad eseguire quello che vogliamo noi score.us e vedete che ci è saltato fuori A e C avevamo due semplicemente due due come si dice due esami e sono stati convertiti in A e C il 30 in A e il 21 in C e quindi diciamo che finora non ci sono errori di sintassi viene eseguito e fa quello che ci aspettiamo la funzione remap mi scrivono la creiamo per seguire il paradigma della programmazione funzionale anziché scrivere nel body di convert.us no no la scriviamo fuori per comodità perché scrivere quattro righe dentro una funzione freccia ci viene scomodo soprattutto per quello che adesso vado a fare perché io so già dove vado a parare perché volevo farvi vedere una cosa un po' più peculiare e quindi scrivere la funzione possiamo fare il copio ancora di questo qui dentro se la scriviamo semplicemente così ma io volevo farvi vedere come mantenere l'oggetto originale e andando a sostituire semplicemente il valore di una proprietà quindi l'oggetto originale quindi l'exam ha ah vabbè adesso me l'ha staccato comunque ha una serie di proprietà no code, name, cfu eccetera eccetera se noi vogliamo semplicemente sostituirne una quindi diciamo sovrascriverne una che senza quindi fondamentalmente creando un nuovo oggetto ma facendo in modo che ce ne sia solo una sovrascritta dovremmo o crearci un nuovo oggetto quindi aperta e chiusa graffa fare una copia assign metterci mettere un secondo oggetto fare una una copia dicendo che nuovo oggetto ha una proprietà e questa proprietà viene sovrascritta quindi diciamo cost new object giusto per scrivere perché se lo dico solo a voce dukera array off vero ora from mi ricordo più bisogna andare a vedere no iterable quindi array off quindi nuovo oggetto e poi ci copio l'oggetto vecchio e poi ci metto la nuova proprietà no quindi sarebbe score due punti nuovo questo è per creare il nuovo oggetto cambiandoci una proprietà questo si può fare non è vietato io però voglio farvi vedere una cosa ancora diversa perché così ripassiamo un po' di quello che abbiamo visto vi ricordate che c'è l'operatore spread che funziona anche con gli oggetti quindi l'operatore spread è quello dei tre puntini che funziona anche con gli oggetti e proviamo a fare quest'operazione con l'operatore spread quindi diciamo che abbiamo un qui ci viene passato un oggetto l che vogliamo separare in diciamo tutto quello che non ci interessa più la proprietà che ci interessa così evitiamo anche di scrivere el score da questa parte quindi mettiamo quindi diciamo così e score e qui quindi questo sarà poi il nostro score e a questo punto noi vogliamo ritornare tutto l'oggetto quindi graffa in questo caso si intende l'oggetto e il nostro oggetto è tutto quanto quello che c'è in E a parte lo score perché lo score l'abbiamo separato e il ok sì c'è tutto perché mi segna qualcosa ah sì score ecco e la nuova proprietà due punti col suo valore facciamo una prova vediamo se funziona vi dico già non funzionerà ma comunque facciamo la nostra prova ok e perché ah ok 59 questo non è così bello perché non mi dice cosa c'è che non va proviamo dal terminale node score us ok questo almeno ci dà il messaggio dire la verità non so perché non ci venga fuori il messaggio vabbè syntax error rest element must be the last element cioè ecco tanto cerchiamo di capire bene cosa stiamo facendo qui sapete come funziona l'operatore rest no sono le nuove sì l'operatore rest eh praticamente compatta tutto tutto ciò che non è stato esplicitamente eh messo da parte no e funziona sia con gli elementi dell'array sia con s8 ma qui abbiamo l'S8 eh con le proprietà degli oggetti no e quindi diciamo itera sulle varie proprietà degli oggetti e ce le assegna eh separatamente come proprietà come proprietà dell'oggetto quindi eh noi sulle slide l'abbiamo visto come mh assegnamento a sinistra dell'uguale ma ehm si può fare forse l'abbiamo visto anche sulle slide anche come parametro di una funzione no nel momento in cui eh scriviamo questa cosa e però appunto dobbiamo scriverla mettendo l'operatore rest per ultimo perché altrimenti javascript non sa più cosa fare adesso salvo e riprovo ecco questa cosa funziona no funziona nel senso che io prendo un parametro il parametro della callback passata alla map è sempre uno solo ed è l'oggetto però direttamente come parametro a quel punto io posso anche scomporlo nei vari elementi che lo compongono se so che è un oggetto so che c'è un una proprietà che si chiama score io posso separarla con il suo nome e poi dire di tenere tutto il resto nell'oggetto e quindi l'oggetto e avrà tutto il resto che mi serve poi per ricreare l'oggetto stesso sotto forma di lista di proprietà che però non devo indicare esplicitamente il bello di questo operatore è che non devo indicare nulla esplicitamente io se aggiungo tolgo una proprietà qui sopra nella definizione del mio exam quando creo l'oggetto qui non devo più modificare nulla se uso questa sintassi questo è il bello dell'operatore spread o rest a seconda di dove lo mettiamo ok quindi e poi nel momento in cui devo ritornarlo beh io creo un oggetto se ho tutte le mie proprietà dentro ecco i tre puntini e semplicemente vado a ricreare le stesse proprietà e per la proprietà che mi interessa vado a farci il lavoro che voglio e quindi la cambio in questa maniera consentitemi di fare ancora una cosa vista che questa è una arrow function io semplicemente dico di ritornare il valore semplicemente facendo scrivendo un'espressione ricordate che se l'arrow function come body è semplicemente un'espressione io quell'espressione è il valore di ritorno dell'arrow function quindi non devo più scrivere apertagraffa return eccetera quindi questo valore di ritorno è l'oggetto va bene no e la map mi farà poi una lista di oggetti quindi un array detto in javascript di oggetti ok quindi dovrebbe funzionare perché mi segna tutto perché perché l'arrow function se vede una graffa la interpreta come apertura di un blocco di codice adesso ripetiamo questa cosa che ci è stata chiesta e quindi se io voglio avere come espressione un oggetto devo racchiuderla tra parentesi tonde le parentesi tonde sono quelle che ci consentono di racchiudere qualsiasi cosa e non cambiano il valore dell'espressione ok non ho ben capito mi dicono che parametri vengono passati a map potrebbe ripetere per favore alla callback di map alla callback di map viene passato sempre solo un parametro che è quello che scriviamo dentro queste parentesi tonde dentro queste parentesi tonde viene passato un solo parametro che è l'elemento che corrisponde a una certa posizione del nostro array l'array list sul quale viene applicato la map quello che facciamo dentro è è un qualcosa che fa javascript cioè siccome noi sappiamo che vi verrà passato un oggetto perché l'array è fatto di oggetti noi lo sappiamo allora quando viene effettuato questo passaggio noi tramite questa sintassi javascript che abbiamo scritto facciamo sì che nel momento in cui l'oggetto viene passato venga scomposto da javascript automaticamente i un valore che è il valore della proprietà score e tutto il resto che avanza cioè tutte le altre proprietà che mettiamo dentro e e questo è semplicemente una questione di comodità nostra perché così possiamo ricomporre il nostro oggetto con tre puntini e score col valore che vogliamo ok diciamo che questa è forse una delle cose più complicate che che possiamo scrivere col javascript moderno appunto mettendo insieme programmazione funzionale lo spread sugli oggetti e così via ma è solo per farvi apprezzare il fatto che diciamo volendo javascript è vero che è un po' complicato ma è anche molto potente nel senso che siamo riusciti a scrivere in una riga un'operazione che va a sostituire il valore di una proprietà su un oggetto indipendentemente da tutta la quantità di altri di altre proprietà che possono essere presenti sull'oggetto e questo codice non è più da toccare ci pensa javascript a fare tutto ok quindi javascript riconosce la presenza della proprietà score sì se avessimo scritto score 1 funzionava lo stesso no 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 perché deve capire qual è la proprietà no cioè vabbè io qui avrei dovuto scrivere score 1 salviamo proviamo ma non non dovrebbe funzionare perché dovrebbe capire che la proprietà è score dunque fatemi solo vedere dov'è che fa la stampa alla fine infatti non fa più la stampa no ci mettiamo solo un non è già scritto molto molto ortodosso perché appunto non c'è mai bisogna sempre fare attenzione alle questioni di asincrono ma quindi no ci viene fuori un array in cui di 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 quindi è vero che ci viene creata la proprietà score sull'array risultante è vero che ci viene messo tutto il resto no però questo score 1 non viene agganciato e quindi finiamo sempre nel caso return d perché probabilmente passiamo a undefined bisognerebbe debaggarlo passiamo a undefined perché score 1 non viene trovato e quindi si finisce appunto per per non agganciare la proprietà che ci interessa se invece mettiamo score che la mappa funziona la mappa deve ritornarci un nuovo array se noi diamo un elemento questo viene inserito nell'array ops scusate node ok ecco vedete no qui è la nostra stampa che questa volta abbiamo a e c e quindi funziona questa conversione perché il passaggio di score è corretto ok quindi nel return mettere tre punti e a destra o a sinistra è uguale sì qui è uguale potete fare le prove ma qui è uguale qui è uguale perché alla fine le proprietà quindi le properties di un oggetto non hanno un ordine e qui è indifferente quindi funziona tutto uguale quindi score score vabbè poi ce li stampo come gli pare però fondamentalmente possiamo mettere a destra o a sinistra ok dopo freccia sì benissimo ok adesso non io volevo farvi vedere questa cosa giusto per farvi vedere come da un lato può essere complicato javascript nel momento in cui è andato a prendere il codice scritto da qualcun altro e dall'altra però può anche essere potente no perché questa semplice riga abbiamo preso un oggetto di cui conosciamo fondamentalmente abbiamo bisogno solamente di conoscere il nome di una proprietà che è quella che ci interessa e possiamo prenderla andarla a cambiare lasciando inalterato tutto il resto dell'oggetto ok tutto questo con una semplice sola riga ok quindi questo è un piccolo esempio di quello che possiamo andare a fare andiamo adesso a a fare che so la media dei nostri score quindi diciamo che ci facciamo anziché fare console log facciamo questo convert us ci dà qualcosa e quindi ci dà un che so us scores ok sto portando le cose un po' fuori dall'oggetto ma pazienza stiamo solo facendo un po' di esercizio ok anzi anzi l'aveva scritto sto seguendo una traccia quindi scriviamo exams se no poi non riesco a fare il cut and paste e a velocizzare un po' diciamo che io voglio solo gli scores vabbè ho fatto tutta sta fatica per avere gli exams quindi gli oggetti e poi mi prendo solo gli score qualcuno potrebbe dire beh potevi farlo direttamente in questa map qui è vero diciamo che l'ho fatto per esercizio questo è un uso un po' più tradizionale della map un po' più semplice mettiamola così quindi prendiamo solo lo score dall'oggetto e creiamo un nuovo array quindi console log us scores eseguiamo e vi trovate A e C ok quindi abbiamo creato gli oggetti e poi abbiamo strato solamente lo score va bene perché io volevo farvi vedere come andare a fare il filtro e perché diciamo che per far la media considero c'è scritto forse nel testo forse qualcuno se ne dimentico ah sì ecco calcolare la media pesata che vuol solo dire media pesata far la media di tutti se ci sono tre A vuol dire che quel valore di A pesa tre volte ma se li sommo tutti va bene così come la media pesata dei vostri esami ma nel momento in cui tutti hanno valore 6 cfu quindi A 4 B 3 eccetera eccetera fino a D 1 quindi sempre per fare esercizi ci sono mille modi per risolvere questo questo problema che peraltro è abbastanza banale dal punto di vista della programmazione quindi diciamo che io prendo cost force tutti i miei for li metto in un in un array quindi us scores voglio solo quelli che sono A che sono i quattro quindi filter a cui passo una callback vi ricordo la filter ritorna un nuovo array io passo una callback diciamo score freccia score uguale uguale A mettiamo gli spazi A ok perché sopra ho scritto abcd maiuscole ok e qui ho un array di A e poi e poi e poi quindi facciamo i for e facciamo la stampa console log us scores eh no è for ok quindi mi viene fuori l'A un array di A io però ho bisogno del numero quindi proprio mappiamo potrebbe rispiegare perché arrivano valori undefined dall'area map sì allora torniamo un istante sopra perché se la proprietà non viene riconosciuta nel momento in cui uso una variabile qui che che di fatto non è stata inizializzata tutte le variabili non inizializzate sono undefined semplicemente per questo che quello che scrivo qui deve essere agganciato visto che l'ho messo nel parentesi graffe alla proprietà dell'oggetto che viene passato se questa proprietà non esiste sarà undefined tutto ciò che in javascript non esiste non è stato mai inizializzato e undefined ok tutto lì ok dicevamo map mappola sul prego sul 4 quindi fondamentalmente diciamo che faccio qui mi ha fatto una soluzione strana vabbè anzi non graffe non 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 parente secondo me dovrei scrivere una cosa diversa io scrivo così e vediamo se funziona metto il punto virgola ok proviamo sempre scrivete due righe e provate infatti funziona così cioè io ritorno a 4 perché tanto so che sono tutti a per ogni elemento che non uso a questo punto faccio che ritornare 4 se fossero due consentitemi di fare secondo oggetto diciamo che io faccio anche applicazioni web 1 voglio seguire sia il corso in italiano sia il corso in inglese applicazioni web 1 è solo una prova è niente di particolare quindi exam sad av quindi adesso ne ho 3 così faccio una prova ho preso i bei voti tutti e due infatti ho aac e mi viene fuori 4 4 ok quindi ho fatto un array di 4 ogni volta che c'era a e la stessa cosa lo posso andare a fare per gli altri casi che adesso copio e incollo vi faccio notare perché non si è incollato perché ho copiato bene ok ecco questo è quello che avevo nella soluzione ma a me non piace perché secondo me fa una cosa che poi diventa incomprensibile nel senso che score uguale 3 è un'espressione no è un'espressione che deve essere il valore di ritorno e il valore di ritorno di un assegnamento è il valore dell'assegnamento però è completamente incomprensibile secondo me funziona però appunto se noi scriviamo x e dico x per farvi capire che può essere qualsiasi cosa quindi x freccia 2 cioè il parametro il nome che diamo nella callback che passiamo è un nostro tranne prima ma prima abbiamo messo le graffe quindi dobbiamo riferirci alla proprietà di un oggetto quindi quindi possiamo for 3 2 1 ce li stampiamo ho salvato dovrebbe uscirci ecco sì vuoto 2 vuoto quindi un array un array un array un array ok bene facciamo l'ultima operazione e poi basta con questo esempio quindi cost la media che peraltro è quello che chiamano il famoso gpa non so se era nel testo no vabbè grade point average dovrebbe essere qualcosa di simile ok come faccio a calcolarla faccio devo fare la media quindi prendo un array su questo array abbiamo visto come fare la media possiamo farla col for dividere la fine non c'è niente di male ma vogliamo provare a usare la programmazione funzionale quindi reduce reduce a cui passiamo una callback un po' particolare dove c'è il valore di accumulo che nel nostro caso è la somma e il valore che dobbiamo sommare che nel nostro caso è lo score lo chiamo score ma potrebbe essere tutto chiamato xy ma se lo chiamiamo xy poi dopo un po' che leggete dopo tanto tempo leggete il codice non si capisce più niente quindi cosa devo fare sum più score semplicemente questa è un'operazione da fare ogni giro ogni interazione sull'array e poi sapete che la reduce prende il valore iniziale dell'accumulatore che è il primo parametro della callback somma che ovviamente se voglio fare una somma deve essere 0 quindi posso fare sum più score diviso l'array length ok quindi posso fare così oppure posso farlo dopo come voglio facciamo in una delle due maniere ok facciamo così i array ar facciamo così ar length terzo e quarto parametro sono opzionali il terzo è l'indice il quarto è l'array e l'array perché ci serve di solito per fare punto length dobbiamo solo sistemare l'array l'array è la concatenazione di 4 3 2 1 no non posso scrivere così 4 3 perché questi sono riferimenti agli array però di nuovo il nostro solito operatore spread 3 2 stamattina vogliamo proprio sperimentare al massimo bene ho preso gli array li ho espansi e li ho messi in un unico array che è quello che ho la parentesi chiuso e quadra più esterna sul quale direttamente appena creato vado a chiamare la reduce adesso facciamo poi console log gpa e vediamo cosa viene fuori salvare eseguire 3.333 sarà giusto dovrebbe essere 4 più 4 8 più 2 10 diviso 3 3,333 perfetto i è necessario sì sì perché proviamo pure senza ma lui non è in grado di distinguermi proviamo vedete non che lui non è in grado di non perché un numero non ha la proprietà length lui distingue il fatto che sia l'indice o l'array dalla posizione è vero che posso non dichiarare cioè non non utilizzare alcuni parametri la callback viene chiamata con 4 parametri io non ne uso 2 e si può fare però se devo usare il quarto devo avere un placeholder un qualcosa per identificare il terzo se no il quarto mi viene confuso mi viene scambiato per il terzo e quindi verrebbe interpretato come numero come diceva si potrebbe mettere un undefined cioè scrivere undefined qui onestamente non lo so questa è una cosa un po' curiosa facciamo la prova sì sì non è forse il massimo scrivere in questa maniera perché io non mi aspetto dei valori fissi come parametri di una funzione mi aspetto di mettere delle variabili posso eventualmente dare un valore no i uguale undefined questo è proprio un valore di default ma tanto il valore di default non mi serve a niente perché viene comunque passato da chi chiama in js cosa si può usare appunto per una variabile placeholder può usare quello che le pare qualsiasi cosa che siano identificate o di variabile incluso l'underscore come c'è ogni tanto su qualche esempio è incluso il dollaro javascript è un po' particolare in javascript funzionano tutte le lettere maiuscole minuscole underscore dollaro come valori come caratteri iniziali di una variabile è questione di stile appunto lo puoi chiamare pippo i underscore dollaro di solito vabbè se proprio vogliamo l'underscore è è la variabile non utilizzata però di nuovo una questione di stile funziona ok va bene io direi che su questo esempio possiamo fermarci qui abbiamo già fatto tante cose non è indispensabile cioè far diventare tutto programmazione funzionale neanche per l'esame in certe cose viene naturale no nel senso che voglio dire se voi dovete tirar fuori dov'è ehm dove era quello di prima tirano fuori lo score ecco qui e freccia e score cioè qui ci viene proprio naturale vogliamo ridurre l'oggetto a una lista di a un array di quello che ci interessa cioè questa è veramente intuitiva no in altri in altri casi insomma bisogna un attimo capire se se siamo fissati col codice che stilisticamente è il più bello che possiamo scrivere oppure diciamoci a considerare di qualcosa che sia abbastanza ragionevole allo stesso tempo abbastanza leggibile non è che tutto deve essere trasformato in programmazione funzionale perché perché appunto c'è qualcosa che si presta di più qualcosa che si presta di meno no e come come si dice chi ha in mano un martello pensa che tutto quello che si che vede sia un chiodo no e quindi non è che tutto funziona come un chiodo solo perché in mano un martello no quindi non è che tutto si può risolvere con la programmazione funzionale nella maniera migliore possibile o nella maniera più breve o più più utile più più efficiente dal punto di vista della scrittura del codice però diciamo che abbiamo fatto forse gli esercizi più complicati che possono essere risolti con un approccio tipo funzionale cioè abbiamo proprio tirato questo paradigma al massimo per riuscire appunto ad utilizzarlo in casi in cui anche può essere anche un po' complicato come abbiamo fatto qui sopra per esempio ok allora passerei all'altro esercizio perché se no non abbiamo più tempo ecco corsi e score nel database e qui così facciamo qualche prova con la promise con le promise quindi quindi abbiamo già un dovremmo avere apriamo un altro un'altra cartella quindi apro una cartella penso qui qui ero in libretto forse non live ecco nell'esco cool light mi apro una nuova cartella viso studio lavora in un'altra cartella lo vedo anche dal fatto che il terminal mi dà il prompt è solo un'altra cartella che è la cartella in cui mi sembra che l'altra volta vi ho fatto vedere gli esempi di col database quindi qui giusto per curiosità visto che abbiamo imparato qui c'è launch c'è il package nel package ci troviate come dipendenza SQLite 3 perché l'altra volta avevamo fatto npm install SQLite 3 e quando fate questa cosa appunto viene scritto un file apposta che descrive cosa sono fatti i pacchetti che servono al nostro programma che dice c'è SQLite 3 e che va poi finire nel node modus ma a noi non interessa ma a noi interessa più che altro che nel momento in cui lo dobbiamo usare basta che scriviamo require SQLite 3 lui automaticamente va dentro questa cartella che è la cartella di default a cercare il modulo e ci mette a disposizione la funzionalità ok dunque andiamo a vedere come risolvere il nostro problema quindi partiamo da qualcosa ok partiamo da dunque il testo ci diceva di partire dagli oggetti no quindi andiamo a prendere quelli quindi abbiamo oppure facciamo così facciamo il coppia in quella che facciamo prima diciamo che ci creiamo il nostro nuovo file che ho transcript ah no c'era già transcript ecco forse l'avevo già messo no però questo è il transcript transcript db quindi transcript db js ok vuoto ci scriviamo dentro uso strict mettiamo sempre djs sculite djs se vogliamo gestire queste date va bene una funzione costruttore del nostro oggetto che rappresenta l'esame qui è stata messa questa toString giusto perché quando poi si fa console.log se c'è una toString il console.log fa la stampa diciamo questa è semplicemente per nostra comodità se non c'è uguale ok quindi diciamo che noi vogliamo creare un oggetto come come c'era nell'altro esercizio l'exam list quello che abbiamo visto a inizio mattina no exam list e quindi vogliamo che sia un oggetto costruttore facciamo la nostra maiuscola e poi mettiamo dunque cosa ci veniva chiesto metodi add get ne facciamo qualcuno add get all find eccetera quindi cominciamo con l'add consentitemi di fare questi copy in colla senza dover riscrivere tutto quindi diciamo che un altro metodo add quindi è una proprietà dis.add uguale una funzione a cui che prenderà un parametro freccia fa qualcosa e che cosa fa vogliamo fare l'esercizio con il db e quindi prende e scrive in un db quindi chiama chiudiamo la graffa se no qui si lamenta perché la chiude a questo livello infatti non dovrebbe essere chiusa a questo livello perché corrisponde a quella di sopra va bene ehm questa funzione andrà poi a chiamare db run con la query no la query è una stringa come abbiamo visto l'altra volta l'altra volta abbiamo visto semplicemente una select asterisco from proprio la base adesso facciamo una query più complicata dobbiamo farla su db db quindi deve essere l'oggetto che ci viene restituito nel momento in cui apriamo il nostro database diciamo apriamo la connessione ma noi usiamo un file e quindi non c'è nessuna connessione da aprire diciamo che c'è da dire alla libreria di darci un oggetto con dei metodi run eccetera che ci consentono di eseguire le query quindi abbiamo visto l'altra volta constdb uguale new sculite database questo è il nome del database sì che c'è e poi passiamo a una callback che ci viene chiamata quando è aperto che fondamentalmente ci dice solo se si è verificato un errore qual è stato e noi in questo momento lo lanciamo punto e basta quindi lanciamo un'eccezione perché in questo momento non stiamo gestendo diciamo gli errori e non è il nostro focus altrimenti non so dovremmo poter pensare a qualche meccanismo che nel momento in cui appunto facciamo new exam list se c'è un problema andiamo ad agganciarlo quindi a livello superiore mettiamo questo in un try catch e decidiamo come gestirlo però visto che tanto finisce che o abbiamo sbagliato o appunto lo stampiamo e basta tanto vale non fare nulla per ora lasciare che sia l'ambiente di esecuzione a stamparci se c'è un problema ok quindi abbiamo db su db facciamo il run della query ecco vorrei farvi notare per prima cosa perché per prima cosa come è costruita la query questa è una query di quelle parametriche col punto interrogativo il punto interrogativo è qualcosa che viene sostituito nel momento in cui la query viene eseguita dove diciamo che cosa deve essere sostituito nel momento in cui la query è eseguita come secondo parametro che era quel parametro opzionale ecco come funziona questa volta per se qualcuno adesso rispondo qualcuno si chiede prima abbiamo detto ma quella i nella reduce deve esserci no e se no non riusciamo a capire e c'è ok è vero e allora come facciamo a creare un parametro che è opzionale è che se c'è viene interpretato correttamente se non c'è non viene interpretato correttamente perché chi ha scritto la run è andato a vedere quanti parametri ci sono e se ci sono tre parametri decide che il secondo è quello che corrisponde all'array se invece ci sono due parametri decide che il secondo è la funzione quindi chiama il secondo terzo parametro è seconda di quanti parametri ha visto cioè dipende tutto da come viene implementata la funzione nel caso delle callback invece nel caso della callback di prima con la reduce sappiamo che la callback viene chiamata in quella maniera e quindi siamo bloccati dal fatto che viene chiamata in quella maniera però se invece siamo noi che chiamiamo una funzione già implementata bene come la dobbiamo chiamare dipende da come è stata implementata la funzione ok l'apertura e la creazione del database è anche asincrona giusto sì giusto 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 e quindi questo è vero questo in questo momento non è considerato in questo codice quindi quindi sì quindi non dovremmo usare una promise anche per l'apertura e sì sì tecnicamente sì sì quindi se volessimo fare le cose per bene diciamo consentitemi ogni tanto ci prendiamo delle come dire delle scorciatoie ma giustamente qualcuno ovviamente dice ma perché fai una cosa così e non fai una cosa per bene quindi dovremmo fare se volessimo farlo new promise proviamo tanto appunto siamo qui apposta resolve reject no come sullo stesso modello così facciamo esercizio e dunque ctrl c diciamo cost db news eccetera r freccia if r allora a questo punto non faccio più trovo r no ma faccio reject r no else resolve db no dunque qui è tutto così perché perché devo chiudere dunque questa grafica corrisponde a quella new promise devo chiudere le tonde vero no le tonde sono già chiudite allora con le callback ovviamente è molto facile pasticciare con le parentesi tonde graffe quindi questa chiude quella questa chiude questa risolve reject ah c'è una tonda di troppo qui ok tonda è troppo dopo reject grazie benissimo quindi questo è il parametro della funzione arrow e quindi deve essere aperta chiusa tonda e quindi diciamo è così ok però a questo punto dovremmo però fare un this db uguale db se vogliamo se lo vogliamo tenere dentro e quindi vabbè passiamo un resolve db se vogliamo che però in realtà se lo vogliamo tenere dentro come immagino no perché a noi noi vorremmo avere il db dentro dentro il che si dice dentro l'oggetto perché altrimenti ci serve a niente l'oggetto se facciamo un oggetto in cui chiamiamo una funzione un metodo add a cui dobbiamo passare pure l'endl del db beh allora tanto vale che sia una funzione non un oggetto però è vero quindi diciamo che la maniera migliore sarebbe quella e ovviamente dopo che facciamo un new exam list dobbiamo ricordarci che la prima cosa da fare è fare oggetto punto open ok poi dopo se volete lo proviamo si potrebbe eventualmente inserire a sync prima della definizione della funzione piuttosto che creare esplicitamente la promise si potrebbe dunque se io inserisco la sync se io faccio async no cioè lei però mi dice io la sync la mette cioè me la mette qua e poi mi dice non creo la promise non creo la promise e cosa faccio semplicemente return c'è una cosa tipo return new SQLite eccetera però il problema no vabbè non è un problema sì dovrebbe funzionare cioè metto adesso ho selezionato il pezzo in meno cioè così dovrebbe funzionare perché async vuole semplicemente dire che se ritorno un valore fisso questo è una promise risolta no e la promise risolta ottiene quel valore fisso quello a cui pensavo prima ma dovrebbe funzionare è che cosa succede nel momento in cui c'è qualcosa che non va no e qualcosa che non va lo possiamo agganciare solo nella callback e nella callback appunto in questo caso lo agganciamo e lanciamo un'eccezione però dovrebbe funzionare perché nel momento in cui lancio un'eccezione in una funzione async penso che ritorni una promise non risolta e quindi bisognerebbe andare a vedere le promise cioè le funzioni async cosa fanno nel momento in cui viene lanciata un'eccezione al loro interno se ritorno una promise non risolta come credo quindi di fatto fanno l'equivalente della reject della promise col valore del che corrisponde all'eccezione quindi all'oggetto lanciato dovrebbe funzionare tutto però bisogna provarlo e le promise sono un po' complicate appunto perché ci sono tanti casi da gestire se andate a cercare c'è una definizione promise specification direi c'è la script ecco c'è questo promise A plus specification questo è stackover ma spero che ci sia il link eccolo c'è tutto il discorso di che cosa succede in ogni caso che vi possiate sognare è un po' tecnica come discorso ma vi dice per esempio voi avete il dubbio di cosa succede appunto nel momento in cui date un valore fisso se andate qui andate a cercare bene leggete tutta questa su questa storia vi dice che vi ritorna una promise risolta con quel valore ok ieri mi dice il vostro collega provato ieri lancio un'eccezione che si può prendere con un try catch esterno ok quindi questa era come gestirvi il caso nel momento in cui appunto vi trovate in queste condizioni non sapete cosa succede con le promise quella è la specifica completa e lì trovate che cosa dovrebbe succedere poi provate effettivamente funziona come vi aspettate quindi come dovremmo verificare che la promise non è risolta dunque una promise non risolta lo verifichiamo in due modi o col col fatto che entriamo nel codice del punto catch che abbiamo messo oppure se l'abbiamo chiamata con la await nel caso ci venga ritornata da una funzione async come stiamo facendo adesso per la open dobbiamo fare un try catch se entriamo nel catch del try catch la promise non è risolta ok quindi del tipo try funzione compromise catch sì try catch il catch però è quello del try catch non è punto catch punto catch se io chiamo la funzione così com'è quindi il file exams esculite non è presente tra i file esatto esatto sì quindi faremo subito la prova di quando non funziona ma poi lo copiamo e ce l'abbiamo sì allora consentitemi di tornare indietro ok ok quindi abbiamo fatto stavamo parlando della add la add vuol dire che facciamo un insert run sql quindi la stringa con i punti interrogativi ognuno di questi valori dell'array viene mappato sul corrispondente ai punti interrogativi corrispondente nel senso di posizione il primo sul primo secondo sul secondo terzo sul terzo e così via qui è stato scelto di implementare nel database la data come un tipo data e quindi se andate a cercare sul mysqlite come gestire le date vi dirà che gestisce appunto il tipo data e che dovete passarlo con date al quale potete semplicemente passare una stringa che ci pensa database a destirsi la conversione qual è la differenza tra mettere una stringa che rappresenta una data nel database e mettere un tipo data nel database e la differenza è che più che altro è una questione di basi di dati cioè se io voglio fare un'operazione una query sul database che nell'espressione fa una condizione sulla data la data deve essere rappresentata come data se no non riesco a fare maggiore di minore di eccetera perché il database è in grado di capire il tipo e interpretarlo correttamente se sa che tipo è se io ci metto una stringa non è detto che l'ordinamento alfabetico delle stringhe che rappresentano le date funzioni forse funziona ma devo rappresentare correttamente la stringa è tutta una complicazione quindi questa è una scelta che decido io di effettuare ok quindi function r e la callback anche in questo caso può essere solo un errore no quindi il parametro è solo l'errore per esempio che so ho specificato una tabella che non esiste reject r altrimenti resolve ecco una cosa interessante che abbiamo detto sulle slide che abbiamo provato anzi proviamo e che possiamo accedere a un paio di valori che possono esserci utili uno è l'identificativo della chiave primaria che è stata creata nell'inserimento se la tabella è stata creata in questa maniera cioè una chiave primaria che si incrementa automaticamente e questo ce lo troviamo nel dis della callback last id perché perché chi ha pensato SQLite3 così ha voluto poteva essere un parametro della callback ma chi ha scritto SQLite3 così ha fatto e l'altro che troviamo è dunque cos'era il numero di righe modificate che però ha senso nell'update perché appunto nella insert più che inserirmi una non può capitare o andato non è andato e se è andato ci dice questo identificativo che io passo indietro con resolve ok quindi facciamo tutto il resto e facciamo una prova quindi quindi diciamo che io faccio un qualcosa tipo semplicemente creo quattro creo l'oggetto exam list poi prendo creo tre come si chiamano tre oggetti che corrispondono agli esami mi faccio un array e le inserisco nel database faccio un po' di copia e incolla se no non finiamo in più quindi my new exam for each ecco questo for each che che si può appunto un caso in cui posso usare for each for each facendo attenzione facendo un po' di attenzione nel senso che io qui ho scritto la callback in questa maniera diciamo che nel momento in cui faccio un ciclo su funzioni che ritornano delle promise e che quindi verranno il cui contenuto verrà eseguito in maniera sincrona in questo caso l'insegnamento database devo sempre fare un po' attenzione ma più che altro nel senso di capire che se devo inserire delle cose in ordine devo aspettare ogni volta che la funzione venga che il contenuto della funzione venga eseguito perché è schedulato per essere eseguito prima o poi ecco ma ma non viene eseguito nel momento in cui io chiamo la funzione per esempio la add se invece non mi interessa potrei anche evitare tutto questo discorso e fare exam freccia exam list add il punto è che se faccio così la for each mi fa le tre chiamate add 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 e poi io esco dal for each e non sono sicuro che siano avvenute ok quindi mi raccomando questo è una cosa cioè il codice che scriviamo è banale non cico chiama tre volte add fine quello che dobbiamo capire è come funziona tutto il meccanismo in javascript cioè qual è la conseguenza di scrivere le cose usando un certo modo un altro se io tolgo async permettetemi di far così no magari qualcuno di voi dice perché fai tutta questa sceneggiata exam freccia exam list add exam poi fai tutte le stampe che ti pare ma fondamentalmente è finita lì no questo non è che non funziona il problema è che qui qui non sono sicuro che gli inserimenti siano stati completati no perché la funzione ritorna immediatamente ritorna la promise ritorna la promise ritorna la promise e ho tre promise no alla fine che peraltro ho buttato via perché poi erano dentro questo cost result che vabbè prendo stampo e non e qui se io volevo fare del resto supponendo che i dati fossero un database non ho la garanzia che questo sia successo allora qualcuno viene l'idea beh ma ho imparato la wait no e infatti avevamo detto a wait no ok ho imparato la wait e non è vietato usarla infatti la funzione ritorna la promise si può tantissimamente fare a wait no posso usare la wait abbiamo detto solo nelle funzioni che sono dichiarate specificamente async perché così vuole la specifica del linguaggio javascript quando è introdotto async await no ok e quindi devo rendere la callback async ok così qui sono sicuro che gli inserimenti sono stati completati perché perché a ogni giro ho fatto a wait la for each prende una callback sincrona cioè la chiama e attende che questa abbia finito ok ok proviamo il codice perché altrimenti allora intanto facciamo la prova giusto per curiosità come diceva il vostro collega qui cosa c'è perché mi segna rosso ah perché sarà qualcosa che non ho chiuso ah sì ci andava la tonda punto virgola della promise ok va bene dunque questo era transcript db ah dayjs ecco non ho installato dayjs così npm install dayjs questo serve la connessione internet ma ce l'abbiamo abbiamo quasi finito poi facciamo pausa ok quindi rieseguiamo no such table score quindi in realtà appunto no such table score perché evidentemente no exams c'era ah no perché exams viene creato quindi questa operazione qui SQLite database crea exams se non esiste solo che lo crea senza la tabella quindi noi ovviamente non abbiamo voglia di metterci qui a gestire questa cosa e quindi andiamo a prenderci l'exams già preparato devo solo andare a copiarlo un secondo di tempo quindi lo copiamo sto facendo sul secondo monitor ma corso esempio SQLite sovrascrivi ok vabbè lui ce l'ha aperto ma non ci interessa ok adesso in exams SQLite c'è il contenuto che ci interessa possiamo anche andarcela a vedere vi ricordate che avevamo quelle SQLite browser open che vi invito ad utilizzare se avete bisogno di andare a vedere eravamo qui detto mi ha fatto adesso che non ti apri ok tabella corse tabella score corse score quindi ci sono quello che ci serve ok quindi proviamo a eseguire il codice bene perlomeno non ci dice come prima non c'è la tabella score e cosa è successo è successo no che abbiamo usato questa add e questa add ci ha dato un errore di cui abbiamo fatto la reject no reject è arrivato qui e l'avremmo ignorata nel momento in cui non avessimo il try catch cioè sarebbe stata lanciata a livello superiore qui abbiamo semplicemente fatto console error di quell'error e questo è l'error abbiamo violato il constraint SQLite che ci diceva che quella era una chiave unica cioè il codice del corso se non si course code sì una domanda in questo caso entrambi console.log attendono la funzione con await sì sì perché il this del last id si riferisce all'oggetto SQLite3 database no il this del last id si riferisce a una cosa che è disponibile dentro la callback parleremo poi più avanti di come funziona il this in javascript diciamo che in questo momento dobbiamo prendercelo per buono diciamo che chi ha creato la SQLite3 fa in modo che nella callback col this ci sia a disposizione una serie di proprietà è incluso questo last id ok però è indipendente dal fatto che noi abbiamo diciamo scritto this add oppure che ci fosse il db qui eccetera diciamo che il this in qualche maniera quando abbiamo bisogno c'è scritto proprio nel nel manuale dell'sqlite3 che in certi casi può avere delle proprietà che possiamo leggere nella callback ok quindi come risolviamo questo problema fatemelo fare in fretta cambiamo il codice qui se no andiamo col tool di prime andiamo a cancellare il il i codici già inseriti quindi io lo eseguo e questa volta funziona no funziona e cosa è successo await console log insert result io qui ho voluto prendere il result giusto per farvi vedere che il result nel caso di una promise risolta è quello che scriviamo qui quindi questo list l'asd io qui l'ho stampato ed è 5 6 e 7 ok che sono gli identificativi creati all'interno del database consentite intanto le prossime ore e mezza ancora nostra solo qualche minuto giusto per finire quindi se riapriamo il ah non se l'è ricordato quello di prima live no scusate era sculite exams ci troverete ah non ce lo fa vedere vabbè no course scusate questi erano gli exam quindi è l'altra tabella code ok ecco 5 6 7 qui a sinistra sono questi identificativi che il database ha creato automaticamente ogni riga ha un suo id che viene creato automaticamente ok ecco qui sono sicuro che gli inserimenti sono stati completati con la se metto await async ok vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante da da vedere insomma le altre io mi metto poi online questa questa soluzione diciamo completa con get all find eccetera tutti i metodi che venivano richiesti ecco potremmo giusto farne ancora uno sembra banale no get all cioè leggi tutto database e dimmi che cosa c'è dentro che non è niente di particolare tra l'altro può essere fatto girare anche più volte quindi get all get all nessun parametro return new promise select asterisco front course join bla 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 non c'è il punto interrogativo quindi l'array è vuoto potrei anche toglierlo è opzionale error lo lascio diciamo lì più che altro per per chiarezza error rose poi ci faccio quello che voglio per esempio resolve resolve potevo fare resolve di rose oppure per esempio qui mi piace crearmi l'oggetto perché in realtà magari l'oggetto che serve a me nel mio codice ha una caratteristica un po' diversa da quello che viene ritornato al database per esempio il database non gestisce i boolean io mi creo il boolean e tutte queste cose che desidero ho notato nel prototipo della callback da passare a run si dice che il primo parametro deve essere this SQLite3 run result non capisco di trattare this passato implicitamente questo bisognerebbe andarlo a vedere sul manuale di SQLite3 dunque run method javascript vediamo se lo troviamo in fretta questo è però più che altro un tutorial se ha link alla documentazione ufficiale quindi vediamo se c'è SQLite3 vediamo questo e quindi API bisogna che appunto uno diventi un po' pratico alla fine c'è un po' anche il compito dell'ingegnere andare a cercarsi le cose dove necessario quindi diceva della run la run square param e poi a callback the context of the function is the statement object it's not possible to run the statement again e comunque come viene realizzato in pratica bisogna bisogna un po' vedere come come l'hanno fatto nella libreria peraltro il codice c'è quindi se uno è curioso va dentro o usa il debugger e fa prima e se no va dentro SQLite3 da qualche parte SQLite3 SQLite3 c'è tutto il codice vabbè certo diciamo in parte sarà fatto in chip però ci sarà sicuramente anche la parte javascript e questa sarà una parte javascript quindi ci saranno bindings eccetera da qualche parte qui dentro diciamo sarà codice sicuramente non così facile da leggere come tutto quello di tutte le librerie però da qualche parte se uno è curioso può andare a cercare e vedere come poi è stato realizzato effettivamente in pratica oppure può anche girarlo solo col debugger entrando dentro le funzioni per esempio dentro la hall e vedere che cosa succede anche se non è così facile perché debaggare le callback non è banale perché le callback non si sa quando vengono chiamate quindi per andarle a debaggare devo mettere un breakpoint dentro l'implementazione della callback che quindi se non so dov'è diventa complicato quindi consentitemi solo di finire this get all quindi fa una normale select asterisco eccetera e allora come faccio a usarlo niente di particolare io faccio get all exams quindi diciamo che vedo tutti gli esami exams uguale await exam list get all exam list era l'oggetto console log exam niente di male quindi salvo provo vedete cosa succede vabbè adesso a parte la faccenda dell'aggiunta quindi io posso anche commentarla perché adesso c'è già dentro ok viene fuori mio problema prima non veniva fuori perché uscivamo a causa dell'eccezione ecco await si può chiamare solo dentro una funzione async e se io sono a livello superiore nel senso sono come dire nel codice che sto eseguendo senza che sia dentro una funzione beh di solito in generale sono dentro una funzione ma se non sono una funzione in cui non posso modificare me la faccio la funzione quindi quando vi trovate in questa condizione quello che vi volevo far vedere creato un main async aperta chiusa tonda freccia ci mettete dentro tutto quello di cui avete bisogno quindi quello diventa una funzione e poi usate un main chiamate il main punto di fine quindi questa volta lo eseguo è tutto a posto potremmo risolvere con punto den anche sì 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 certo potremmo risolvere anche con punto den quindi avremmo potuto scrivere e lo possiamo scrivere indipendentemente exam list get all anzi di solito spesso nelle applicazioni web faremo così perché appunto le async se no spesso non sono pratiche quindi exams freccia console console log e dovrebbe potersi copiare e dovrebbe poter funzionare proviamo infatti funziona uguale anche perché di solito noi non è che siamo lì a stampare di solito scateniamo magari un'altra azione facciamo qualcos'altro mi raccomando se dovete poi fare un altro punto den lavorare sui dati dobbiamo ritornare qualcosa il console log non so cosa ritorna non penso che ritorni nulla quindi se avessimo da fare qualcosa potevamo scrivere a part la grafa console log punto e virgola return exams dobbiamo sempre ritornarlo per andare avanti nella catena dei dent ok spero di non aver dimenticato nulla di importante mi sembra di no vi metto appunto poi a disposizione il file della soluzione completa paccioccate dentro provate e appunto perché solo provando si riesce a imparare questa questo modo di programmazione asincona che richiede un po' di pratica ovviamente come tutte le altre cose direi che abbiamo fatto un bel po' di pratica e facciamo 5 minuti di pausa magari anche un istante in più io chiudo come sempre la sessione zoom per un altro così intanto viene processata la prima lezione verifico che tutto sia a posto eccetera se avete dubbi o domande anche dopo la lezione poi scrivete su su slack se vi incartate su qualcosa e comunque lunedì ci saranno poi i laboratori in cui ovviamente siamo a disposizione per un'ora e mezza più un'ora e mezza per qualsiasi problema o dubbio o prova o cosa che volete fare e magari non funziona o non capite volete interpretare bene eccetera ok potrebbe lasciare i commenti quando fa l'upload in modo tale da vedere le varie alternative sì sì certo certo in realtà sì ok ok quindi modifico leggermente la traccia da cui ero partito certo ok allora fermiamo un attimo la la registrazione e poi la riapro subito ma non registro e non faccio nulla perché così potete ricollegarvi immediatamente ma solo per comodità